Questo è l'auspicio, questo è il messaggio che vogliamo dare ai nostri concittadini, oggi il largo anticipo rispetto agli anni passati, in realtà in questi ultimi tre anni da quando siamo stati eletti abbiamo sempre anticipato a fine novembre l'avvio delle festività natalizie, quest'anno abbiamo voluto continuare questa tradizione e la consapevolezza che dopo questa maledetta pandemia sia ancora più importante del passato. Guardare al futuro con un ritrovato ottimismo, invogliare i nostri concittadini a visitare il nostro bellissimo centro storico, il nostro barocco, comprare i propri regali all'interno dei nostri negozi in compagnia di bella musica, in compagnia dei mercatini artigianali, credo che sia un segnale di speranza che in maniera opportuna abbiamo dato alla nostra città e tantissimi turisti che continuano a visitarla. Per Annesia Volta quest'albero è stato donato da alcuni imprenditori illuminati, non incidiamo di un euro sul bilancio del comune e sulle tasche dei nostri concittadini catanesi e quindi regaliamo un sorriso ai nostri concittadini, tantissimi turisti di cui abbiamo tutti profondamente bisogno. Grazie alla sinergia con la FCE, con la MTS, grazie a questo biglietto unico da 15 euro per tutto il periodo natalizio, utilizzando anche i parcheggi scambiatori, grazie alla metropolitana che sarà aperta il sabato e la domenica fino alle 24. Cosa mai accaduta? Involendo i nostri concittadini a raggiungere il centro storico grazie alla metropolitana, senza inquinare, senza determinare caos aggiuntivo, consumando le proprie scene all'interno dei locali del centro storico. Un bel messaggio di ripresa che vogliamo dare ai nostri concittadini.